Dunque, siamo sul... sto riprendendo... I'm... I'm making a video... Ah, Vici! Dunque, siamo su uno dei posti più alti del mondo... Devo ridarti questa posta! Del mondo, eh! Ciao, Fatbar! Ciao, ciao, ciao! Ed è spettacolare! Ciao, Majid! Un po' voglio riposare, era un salito incredibile! Allora, un po' anche c'è il sole di montagna! Per riposarsi! Ed è... spettacolare, come sempre! Sono troppo, troppo in alto! Fatbar, puoi prendere questa? No, aspetta, non me la dai! Guarda, la passo prima di salvare, sta certo! Ma io di pazzo! Se vado giù, vado giù da sole! Ti do anche l'iPhone, che almeno qualcosa si salva! Le due ultime chiamate, mi salva! Tieni! Grazie! Grazie! Adesso faremo un po' di freerunning! Pepe vuol dire Alpi! Olè! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Con Alpi, abbiamo stabilito la borda... Valeria, di qualcosa ai nostri... compagni! E' un tributo al cane secco, questo! Ah, ok! Ok! Di sempre! Perchè, si può ascoltare Alpi, e le sposti... E' un sportista con Serbia. Ma quella di... No, perché non è... No, perché non è... Ok! Mi, mi! Grazie a tutti.